Qualche novità sulla mia leda? Nella grotta c'era un uomo. Aveva queste spezie con sé. Ah, la mia leda! Credi che l'uomo che hai trovato fosse un ciclope e che lei abbia preparato un elisir con queste spezie per fargli crescere un secondo occhio? Sì. Barnaba, su Anafi non c'erano più ciclopi di quanti ce ne siano a Cefalonia. Abbi fede, amico mio. Leda è stata lì. Se Leda è viva, la troverò.